Buongiorno a tutti, spero che mi possiate vedere e sentire chiaramente. Abbiamo preparato delle slide, intanto chiedo a Iwan eventualmente di condividerle se non è ancora il caso. Grazie a tutti. Il fatto di sorveglianza, l'incontro periodico organizzato dalla rete e altri eventi a quali ogni tanto i colleghi della Gmare partecipano. Insomma tutto questo è mancato, quindi è molto importante per noi capire un po' che sta succedendo sul territorio, ma anche penso per voi capire bene che cosa abbiamo fatto noi a livello di commissione per aiutare il settore nel fronteggiare questa crisi che da sanitaria sta diventando una devastante crisi socio-economica. Quindi farò una panoramica in generale su tutti gli interventi della commissione e mi concentrerò poi in particolare su quello che è più rilevante per voi, sia come membri dell'amministrazione, quindi organismi intermedi eccetera, ma anche quello che è importante proprio per gli attori ultimi sul territorio, quindi flag e settore. Allora possiamo partire già con la prima slide, Iwan se vuoi passare, ecco allora ci sono stati in questi due mesi molte attività a livello di commissione, molte comunicazioni, molti interventi, quindi per fare un attimo un po' di chiarezza li vediamo tutti uno per uno con l'accento appunto su quelli che sono più rilevanti per voi. Allora abbiamo cominciato, il 19 marzo è stato istituito un quadro temporaneo di aiuti di Stato che è stato poi modificato il 3 aprile e recentemente anche venerdì scorso l'8 maggio ma solo per permettere diciamo con alcune condizioni l'intervento delle entità statali nella ricapitalizzazione delle imprese. Allora il quadro temporaneo in generale ha previsto un ammorbidimento, un'elasticità nella concessione degli aiuti di Stato per aiutare la liquidità delle imprese. L'Italia ha già approfittato di queste possibilità, il 14 aprile sono stati già approvati due grandi schemi sia per le grandi imprese, circa 200 miliardi di euro, e per le PMI. Mi pare che proprio ieri sia arrivata anche l'approvazione per uno schema della Friuli Venezia Giulia per prestiti a tasso zero per investimenti nel settore pesca-aquacultura, quindi anche questo è molto importante. L'altra novità diciamo è quello che viene chiamato un extra de minimis, non è un vero e proprio de minimis ma ci assomiglia molto, oltre alle classiche regole de minimis, 30 mila euro a destinatario negli ultimi tre anni come tetto, si aggiunge per il periodo identificato dalla crisi Covid, ovvero primo febbraio 2020, 31 dicembre 2020, anche la possibilità di avere un extra aiuto di Stato facilitato fino a un massimo di 120 mila euro per il settore pesca-aquacultura, che va poi fino a 800 mila euro per il settore terziario e altri settori. Questo limite vedremo è importante per alcune attività all'interno dei flag. Abbiamo poi il 30 marzo, dopo la comunicazione del 13 marzo, il 30 marzo è stato adottato quello che viene chiamato CR2, ovvero iniziativa di investimento in risposta al coronavirus. Questo è in pratica una modifica del regolamento di esposizioni comuni, che prevede una grossa elasticità all'interno dei fondi di coesione nella distribuzione delle risorse, prevede in generale la possibilità di concedere un supporto alle perdite per capitale corrente. La Commissione ha anche messo a disposizione nell'ambito di questa iniziativa tutti i prefinanziamenti che non sono stati utilizzati. Normalmente questi prefinanziamenti a livello di Stato, a livello di programma operativo, venivano recuperati dalla Commissione a maggio. Quest'anno invece la Commissione ha deciso di lasciarli a disposizione dello Stato membro, degli Stati membri. Parliamo di più di 800 milioni per l'Italia in generale, di cui, se non sbaglio, 13 milioni e 9 per il programma operativo FEAMP. In questa iniziativa c'era anche una piccola disposizione, un paio di disposizioni in più relative al FEAMP che permettevano di allargare il campo di investimento delle misure 35 e 57, prevedendo per le assicurazioni anche la possibilità di aggiungere la crisi sanitaria come copertura. Tutte queste iniziative in realtà per voi sul territorio sono molto limitate, anche le articoli 35 e 57 in Italia credo che abbiano avuto molto poco utilizzo. Quindi andiamo avanti con le altre interventi. Il 2 aprile la Commissione ha proposto il programma SURE che in particolare si tratta di circa 100 miliardi a disposizione degli Stati membri per sostenere dei programmi nazionali per mitigare il rischio di disoccupazione, ad esempio contribuendo a regimi di riduzione dell'orario di lavoro, eccetera. Veniamo poi al 23 aprile che direi è la data più importante per noi del settore FEAMP perché introduce grosse novità e grosse opportunità. Nello stesso giorno infatti è stata adottata un'ulteriore modifica a regolamento di disposizioni comuni e una modifica abbastanza sostanziale al Fondo Europeo per la Pesca. Allora se passiamo alla slide successiva vediamo in pratica quale di queste modifiche sono le più rilevanti nel nostro contesto. sono state introdotte delle flessibilità amministrative appunto per alleggerire anche l'attività dell'amministrazione in modo che si potesse concentrare più sulla sostanza che sull'aspetto burocratico. Quindi modifica semplificata per l'utilizzo di strumenti finanziari sappiamo che al momento ancora non sono stati utilizzati per il programma FEAMP ma c'è stato uno studio ex-ante per poterli mettere in piedi. Altre scadenze amministrative sono state prorogate, ad esempio il rapporto annuale che non lo aspettiamo più per maggio ma sarà per settembre, le attività di campionamento di audit sono state semplificate. Ecco molto importante sarà la possibilità a fine anno di poter invocare la causa di forza maggiore nell'ambito Covid per evitare il disimpegno. Quindi anche qui la Commissione si impegna ad avere una certa flessibilità nell'analizzare le cause di forza maggiore ed non ci sono modifiche fondamentali alle regole di disimpegno. Non è che da N più 3 si passa a un N più 4 quindi c'è una proroga della deadline per il disimpegno però all'interno della stessa deadline sarà possibile con una certa flessibilità prendere in considerazione le cause di forza maggiore quindi tutte quelle operazioni che non si sono potute concludere tutte quelle spese che non si sono potute produrre a causa dell'emergenza Covid potranno essere accumulate e andranno a diminuire o addirittura ad annullare l'eventuale rischio di disimpegno. Noi ci auguriamo ovviamente che sia possibile evitare un disimpegno a fine anno. Poi ci sono altre regole sulla flessibilità in fase di chiusura che però non mi dilungo perché siamo ancora lontani dal 2023. Iwan, se puoi andare? Andiamo a vedere più in dettaglio le flessibilità introdotte sulle misure per il FEAMP. Allora abbiamo tolto tutte le limitazioni che erano ad esempio l'articolo 13 del FEAMP riguardo l'allocazione delle risorse finanziarie. Questo significa ad esempio che alcune risorse, prendiamo ad esempio l'aiuto al magazzinaggio era una risorsa chiusa, non poteva essere spostata su altre priorità tra l'altro per l'Italia queste risorse non erano state utilizzate ed erano scadute a 31 dicembre 2018, quindi sarebbero state perse alla chiusura. In realtà ora c'è la possibilità di prendere questi risorsi, si parla di se non sbaglio 6 milioni circa, e di allocarle ad altre priorità che le necessitano. Stesso discorso per altre priorità, la priorità 6, la priorità 3 dove abbiamo raccolta dati e controllo, dove però abbiamo delle certe remore a permettere un utilizzo di queste risorse perché c'è la necessità comunque di garantire anche gli obiettivi di conservazione e di controllo previsti dalla politica comune per la pesca. Un altro limite che decade è semplicemente per il fermo temporaneo in ambito Covid è il famoso tetto del 15% che riguardava le misure flotta, ovvero le misure di fermo temporaneo, fermo definitivo, modernamento motori, cumulati insieme non potevano essere maggiori del 15% delle dotazioni alle priorità 1, 2, 5. Anche questo è stato tolto, quindi diciamo c'è libertà nell'utilizzo delle compensazioni per fermo temporaneo che vedremo poi nella prossima slide. È stata introdotta una procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi, quindi anche in questo caso non si parlerà di tre mesi ma per tutte le modifiche in ambito Covid dovremo essere in grado di adottare il programma nei 20-22 giorni successivi alla presentazione. Grossa novità molto importante per voi sul territorio, dunque le operazioni concluse sono comunque ammissibili, l'ammissibilità è retroattiva, l'ammissibilità delle spese parte al 1 febbraio 2020, quindi dimenticate il vincolo dell'ammissibilità per le nuove misure legato al momento di invio del programma operativo o la necessità eventualmente di dover aspettare l'adozione del programma operativo. Tutto questo è stato rimosso, qualsiasi spesa relativa all'emergenza Covid avvenuta dopo il 1 febbraio è ammissibile, quindi cominciate a tenere da parte fatture e tutto quello che avete perché anche se i bandi arriveranno più avanti, insomma tutto questo rientrerà nella possibilità di copertura del nuovo fermo. Possiamo andare avanti? Ewan? Ecco, allora riguardo alle misure specifiche, dunque la maggior parte di queste misure in realtà sono misure che verranno attivate dall'autorità centrale e comunque dagli organismi intermedi, poi vedremo in realtà quello che si potrà fare a livello di flag, però ecco come panoramica una delle grosse novità è l'apertura alle compensazioni, per quanto riguarda l'arresto temporaneo delle attività di pesca, incluse le acque interne, è possibile dal 1 febbraio al 31 dicembre pagare delle concessioni, delle compensazioni scusate. Non c'è per il fermo temporaneo Covid il limite famoso dei 6 mesi nell'arco della programmazione, quindi se un'imbarcazione ha già beneficiato di 5 mesi di arresto temporaneo normale, potrà beneficiare di un altro mese negli ultimi 3 anni di programmazione, ma in più diciamo lo scenario massimo potrebbe beneficiare addirittura di 11 mesi durante il periodo 2020. Quindi queste ovviamente sono tutte considerazioni che dovranno essere fatte dall'autorità di gestione, ma c'è una grossa apertura da parte della Commissione in questo senso. Questo è molto importante perché abbiamo visto ad esempio qualche giorno fa un rapporto sulla flotta, l'attività della flotta nel Mediterraneo e c'è una diminuzione in media dell'80% delle imbarcazioni che escono, che sono uscite a mare nel periodo di marzo. Per la piccola pesca arriviamo addirittura a dei picchi del 90%, quindi è assolutamente necessario intervenire in questo senso. Abbiamo poi per quanto riguarda il... ecco dimenticavo che la Commissione cofinanzierà il 75% del fermo temporaneo rispetto al 50% del fermo temporaneo normale, quindi diciamo per le casse dello Stato un intervento meno impegnativo. La metodologia dovrà eventualmente essere introdotta nel programma operativo. Per quanto riguarda invece il settore acquacoltura e trasformazione, anche qui due grosse novità, introduciamo delle compensazioni finanziarie al 100% per diciamo i problemi sopravvenuti in ambito Covid, quindi in caso di sospensione temporanea o di riduzione della produzione o delle vendite e per tutte quelle spese supplementari di magazzinaggio dovute ovviamente alla necessità di mantenere il prodotto perché sono spariti quei canali classici, ad esempio l'oreca di distribuzione e assorbimento di questi prodotti. Tutto questo è possibile come compensazione da parte del FEMP al 100% e la cosa importante è per ridurre al massimo i tempi di attuazione di queste misure non è necessario andare ad una valutazione precisa di quelle che sono state le perdite ma l'autorità di gestione e gli organismi intermedi potranno decidere delle compensazioni con costi standard, proprio al fine di velocizzare il più possibile l'afflusso di supporto sul territorio. L'altra nuova opportunità è quella di concedere un supporto alle perdite per il capitale circolante questo diciamo all'intensità di aiuto è del 50% però valgono comunque i casi all'articolo 95 quindi l'intensità di aiuto può salire o diminuire a seconda dei casi questo diciamo è molto simile alla misura già annunciata nelle disposizioni comuni al 30 marzo ma questa direttamente all'interno del programma operativo sarà di più facile e più veloce attuazione speriamo. Stesso discorso problemi per l'ammasso dei prodotti stesso discorso ci sono compensazioni fino al 100% per le organizzazioni dei produttori settore pesca e acquacultura e un aumento anche del sostegno ai piani di produzione e commercializzazione si passerà come percentuale di supporto dal 3 al 12% e l'anticipo potrà andare oltre al 50% che è quello attuale fino eventualmente a un massimo anche del 100%. Allora andiamo a vedere che cosa eventualmente è importante per voi nell'ambito della priorità 4 allora come dicevo prima abbiamo tolto tutti i limiti alla flessibilità nella riallocazione delle dotazioni finanziarie quindi a questo punto rimane esclusivamente una decisione in ambito Stato-Regioni come definire o comunque in mano alle autorità nazionali come definire la ridistribuzione della dotazione finanziaria per far fronte all'emergenza Covid sapete che l'anno scorso c'era stato il problema del non raggiungimento della performance quindi la riserva di efficacia non era stata allocata al programma per la priorità 2 e la priorità 4 quegli importi sono comunque persi perché il disimpegno è già stato fatto nel 2019 però non c'è nessuna prerogativa ad esempio ad andare comunque a rincrementare di nuovo con i dovuti spostamenti nel piano finanziario FEAMP ad andare a rincrementare di nuovo la dotazione finanziaria per la priorità 4 per quanto riguarda l'attuazione delle misure nell'ambito del nuovo FEAMP allora come dicevo prima come avete visto un po' dalla panoramica sulle misure è chiaro che gli interventi più sostanziosi saranno fatti dall'autorità di gestione e dagli organismi intermedi per quanto riguarda soprattutto le compensazioni però è chiaro che poi si apre tutta una serie di possibilità per voi sul territorio in ambito FLEG per poter far fronte all'emergenza Covid utilizzando un po' il discorso degli interventi in ambito di salute pubblica ovvero per mitigare l'impatto sul territorio e permettere quindi alle varie attività di poter svolgere, poter aprire, poter svolgere il loro business in ottemperanza alle nuove regole sul distanziamento sociale eccetera quindi non è che questo significa automaticamente che sia necessario modificare le strategie locali immaginiamo che nella maggior parte dei casi questo sarà necessario però a livello di disposizioni comuni di regolamento FEAMP non c'è niente che obblighi a modificare o comunque che regoli la modifica delle strategie però è chiaro che se gli interventi che andate a fare anche in ambito Covid non sono ripresi dalle strategie già attuate questo dipenderà molto da come sono state scritte le strategie da che cosa è stato incluso nelle convenzioni quindi è la necessità di valutare con gli organismi intermedi caso per caso a seconda del tipo di intervento che si intende fare sul territorio se effettivamente è necessario modificare la strategia locale o no nel caso sia necessario è auspicabile che le procedure siano veloci e snelle in modo che nel giro di qualche settimana il flag sia abilitato a lanciare i bandi e preparare insomma le azioni sul territorio non ci sono novità specifiche per quanto riguarda l'intensità di aiuto per le misure tradizionali valgono le solite regole all'articolo 95 è chiaro però che con l'emergenza Covid nel caso poi la strategia locale venga adeguata di conseguenza sarà probabilmente possibile fare ricorso all'emergenza e al fatto di garantire la salute pubblica per poter eventualmente attuare azioni a titolarità da parte del flag eventualmente arrivando anche al 100% quindi dipenderà molto dal tipo di azione che verrà fatta però diciamo questo non è legato strettamente alle nuove modifiche del FEAMP ma semplicemente al fatto di fare riferimento alle misure di salute pubblica che sono ovviamente di interesse comune e quindi andrebbero a sbloccare la deroga all'articolo 95 per arrivare all'intensità di aiuto fino al 100% questo ovviamente è tutto da valutare caso per caso da parte nostra quindi l'invito è quello di mettersi subito al lavoro se avete già delle idee interessanti per capire se insieme all'organismo intermedio è necessario effettivamente cambiare le convenzioni e la strategia e l'invito è quello di prediligere interventi di limitata complessità che si possano attuare in maniera veloce in modo insomma che non si vada troppo avanti nella capacità poi di fornire il supporto a chi ne ha bisogno riguardo le date di ammissibilità come dicevo le spese sono ammissibili dal 1 febbraio al 31 dicembre 2020 l'idea è quella di avere le misure attivate entro la fine dell'anno questo non significa però che gli impegni e i pagamenti debbano essere fatti entro il 31 dicembre 2020 è importante comunque che i bandi vengono lanciati entro fine anno e che gli impegni e i pagamenti vengono fatti al più presto anche se possono essere fatti comunque nel 2021 allora io avrei finito la presentazione sono andato un po' veloce perché i tempi comunque non sono lunghissimi in realtà ci sarebbe molto di più da approfondire lascerei la parola a Carlo che credo adesso modererà un po' le eventuali domande e questioni che sono giunte o che ci saranno e poi siamo qui io e Ioannis a disposizione eventualmente per rispondere ad altri quesiti vi ringrazio Carlo itensi ecco ok Grazie a tutti.